Un cittadino valdarnese è appena tornato dal Messico e anche lui tranquillizza tutti relativamente alla febbre suina. Probabilmente il sentore dell'epidemia si respira più nel resto del mondo attraverso la televisione che direttamente in quella nazione. Esatto, volevo dire che io sono stato lì in vacanza e sinceramente tutte le persone che conosco, gli amici di Playa del Carmen, perché io sono andato lì in vacanza a Playa del Carmen, Cancun, nessuno è ammalato, clima bellissimo, si sta benissimo tutti. Sinceramente mi sono reso conto di questa febbre suina arrivando qui in Italia. Quindi solo attraverso i giornali, insomma, dove? Attraverso i giornali, la televisione sta facendo secondo me un allarmismo ingiustificato. La vastità del territorio poi rende tutto decisamente diverso da quello che si vede negli schermi televisivi. Le città del Messico sono circa 25 milioni di abitanti, quindi poi è molto distante, insomma, diciamo che non so di preciso i chilometri, ma è come dire da qui che si ammala la gente, non so, in Spagna, in Francia.